secondo e ultimo giorno di sneak peek olabagai come la va? come la va? vi è piaciuto lo sneak peek di ieri? me lo fate sapere nei commenti oggi ho ancora tante chicchette da regalarvi tante notizie importanti per cui anche quest'oggi spero che mi lascerete un bel like spero che commentiate spero che vi iscriviate al canale e guardate in descrizione che ci sono tutti i nostri social sia per andare in live su youtube sia per guardare video di youtube sia sul sito viola così rimanete sempre informati i nostri social sono importanti soprattutto il canale telegram ci tengo tanto andiamo un po' sul gioco a vedere tutti i cambiamenti che ci sono anche per quanto riguarda lo sneak peek numero 2 allora l'avete risolto l'indovinello di ieri? spero proprio di sì state dicendo la truppa che sei coinvolta in questo indovinello perché si parla di truppa si parla di truppa eh sì c'è un cambiamento c'è un cambiamento per quanto riguarda una di quelle che aveva un livello in più ieri perché verrà anche potenziata come truppa super stiamo parlando del bocciatore andiamo un po' a vedere tutte le caratteristiche di questo bocciatore eccolo qui super bocciatore selezioniamolo un po' il super bocciatore non potrebbe chiedere di più dalla vita ha un guanto che gli garantisce un'impugnatura migliore delle calzature comodissime e dei massi ancora più grossi da lanciare oh 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 è all'abilità speciale quello che cambia il tutto i massi del super bocciatore rimbalzano fino a colpire un terzo bersaglio e causano più danni ad aria vediamo un po' tutti i suoi dettagli danni al secondo 200 punti feriti a 2000 io vi sto leggendo quelli di livello 6 per la cronaca costa di allestramento 1000 tempo 5 spazio richiesto 30 wow occupa tanto spazio occupa tanto spazio naturalmente quanto riguarda il super bocciatore sarà disponibile anche a livello di TH13 ovviamente a livello 5 e anche da livello da TH12 a livello 4 con le sue dovute differenze di danni di punti feriti e quant'altro che trovate nella sezione notizie se siete impazienti di sapere tutti i livelli per quanto riguarda il bocciatore il super bocciatore andiamo un po' a fare questo super bocciatore e a sbloccarlo e a provarlo anzi a provarlo perché c'è il campo di prova per lui ce ne dà 10 a disposizione ci dà 2 furie 2 cure e 2 gelo vediamo un po' com'è il rimbalzo qua mettendole un paio su questa zona qua pam pam prende l'arco X prende anche la torre dell'arciere dietro e fa anche un bel dannino perché ha distrutto praticamente la torre infernale insieme al suo compagno ed è rimasto in vita per fare tutte le tre difese andiamo a farlo tipo qua prende la torre dell'arciere prende il mortaio è leggermente più storto di quanto riguardava ma avrebbe colpito anche la torre dell'arciere dietro quindi riusciva a colpirli in linea perché erano abbastanza attaccate prova a fare di qua vediamo dove arriva cannone mortaio mortaio prende tutti e tre quindi il quadratino in più lo fa qua c'è la regina che gli darà noia quindi ne metto tutti e quattro non mi interessa di vedere il risultato voglio vedere l'effetto beh la distanza è buona non bella maggiorata con rimbalzo in più anche il danno mi sembra importante ci sta ci sta ci sta direi non sono andato a utilizzare le pozioni non mi interessa fare stelle magari riesco uguale non non ho non ne ho idea siete ancora vivi ecco ci ha lasciato le penne il giri sta l'ultimino lì non mi interessa direi che vi ho mostrato abbastanza bene le caratteristiche avete visto anche un po' com'è dobbiamo vederlo meglio giusto velocemente sul gioco quindi torniamo al villaggio andiamo a vedere tutte le sue differenze potenziamo chiaramente 25.000 e andiamo a produrre questo super bocciatore a destra troppe super bocciatore terminiamo subito ne facciamo anche due anche quattro via vai bocciatori dove siete in marcia verso il potenziamento dove siete dove siete che non vi vedo eccovi qua eccole lì i nostri nuovi bocciatori di livello 6 che stanno andando a farsi una bella sauna vediamo un po' come usciranno fuori ci siamo ci siamo stanno per entrare voilà wow il cambiamento direi che c'è è decisamente importante il masso cambia totalmente diventa viola molto grosso hanno questa bandana sugli occhi arancione hanno i guantini come diceva hanno le scarpette le ciabattine le calzature per farvi per fargli il grip per bocciare meglio eccoli qui nel loro accampamento che possiamo vederli al meglio nel loro nella loro forma differente rispetto anche al bocciatore normale vedete che sono molto più grossi molto più forzuti sembrano un super eroe mascherato rispetto alla loro versione normale diciamo così e l'effetto chiaramente quello voluto il masso direi che è molto più grosso molto più pesante vedremo un po' in gioco se riusciremo a utilizzarlo come utilizzarlo per creare un funnel mi viene in mente al posto del drago elettrico potrebbe essere un'idea vedremo andiamo a altre novità perché non finisce qui perché abbiamo parlato di super truppe ma ci sono altre novità da dirvi quest'oggi e le novità che quest'oggi vi voglio dire sono per quanto riguarda i quality of life allora c'è un cambiamento per quanto riguarda il guadagnare esperienza il nostro livello del gioco che qua vedete in questa versione da sviluppatore sono 237 se io donerò truppe per quanto riguarda il castello in battaglia le clan war ci sarà un guadagno di esperienza cosa che adesso non veniva e questo guadagno di esperienza per evitare che ci sia gente che mette truppe leva mette truppe leva mette truppe leva e magari fa guadagnare anche tutti in questo modo perché io metto le truppe e guadagno il mio livello levo e le faccio guadagnare un altro mettendo anche lui le truppe avverrà soltanto soltanto quando starterà la war per quanto riguarda i quality fly c'è una bella chicca oltre al guadagnare esperienza con le truppe donate in war ovvero il fatto che possiamo avere un eroe diverso ogni volta che entriamo sul nostro gioco c'è questo tastino qua blu questo quadrato che è un randomizzatore un randomizer ci fa ogni volta che carichiamo il gioco una skin diversa apparirà per quanto riguarda i nostri erediti quanto riguarda la nostra collezione chiaramente noi dobbiamo attivarlo come faccio in questo caso selezionare le skin che vogliamo che entrino in questo in questa scelta casuale io per esempio ne scelgo ne scelgo questa qua non mi piace per dire e scelgo solo quelle colorate fatto e adesso ogni volta che caricheremo il gioco tra quelle skin selezionate andrà a piazzargli una questo quando avviene quando andiamo a visitare un villaggio quando attacchiamo ogni volta che il nostro villaggio base viene ricaricato è una bella chicca direi che ci sta direi che ci sta e mi piace molto vedere ogni volta una skin diversa ne abbiamo tante ne stiamo collezionando tutti un po' tutte almeno spero almeno credo perché io l'ho fatto tutte e vedere ogni volta una skin diversa è tanta roba direi che è tanta roba c'è anche un cambiamento per quanto riguarda noi creator per voi che ci supportate in particolare spero che vi interesse questa news questo quality of life se io vado in negozio se io premo questa C posso inserire direttamente qua il nostro code creator io scrivo per esempio nel nostro caso APLO dovrò premere invia codice chiaramente per attivarlo e da qua senza andare in impostazioni altre impostazioni direi che la strada è molto più facile chiaramente anche la strada precedente è ancora accessibile ve la faccio vedere per chi non lo sapesse qua impostazioni sono andato altre impostazioni scorro fino in fondo inserisci codice e anche qui posso scrivere APLO quindi abbiamo due strade una molto semplice una un po' meno ma è quella vecchia e la strada vecchia se la ricordano quasi tutti direi se volete sostenerci scegliete voi come fare ultimi quality of life di cambiamenti riguardano le API ovvero quelle cose tecniche per chi si diverte a fare applicazioni di nicchia per aiutare la gestione del gioco applicazioni ovviamente che quando vanno a utilizzare le API sono tutte consentite perché Clash of Clans le mette a disposizione io non vado a dirvi tutti i cambiamenti che ci sono perché sinceramente non me ne intendo molto non mi ci sono mai cimentato però in notizie trovate tutto quello che è necessario sapere direi che vi ho detto tutto sono stato bravo? mi merito un bel like spero di sì iscrivetevi al mio canale guardate in descrizione tutti i nostri social e adesso aspettiamo prossimi giorni arriva l'aggiornamento non lo so quando ma io sono qua trepidante in attesa come voi al prossimo video prossimo live qua su youtube o sul sito viola non lo so bye bye ciao a tutti i nostri sociali